Con Fartigianato, Impresa Arezzo spegne 70 candeline e per questo importante compleanno si regala un nuovo e speciale logo, frutto della creatività degli studenti della sezione grafica del Liceo Artistico di Arezzo. Il Liceo Artistico di fondo è un'incubatrice anche di tanti artigiani che poi nel tempo sono diventati i nostri associati e sono diventati tra l'altro una realtà economica di questo territorio. A maggior ragione per un evento di questa importanza come il settantesimo si è rinnovato questo tipo di rapporto e siamo molto contenti che sia stata proprio la classe della quinta grafica del Liceo Artistico e con la studentessa Giada Giovannezzi a poter realizzare questo logo che ci accompagnerà in tutto questo anno e che sarà un po' l'emblema di questo nostro anno veramente di riconoscimento anche di un lavoro fatto in tanti anni di storia. Io uso dire che siamo un'associazione di giovani con 70 anni di esperienza. Con Fartigianato Arezzo ha infatti deciso di commissionare agli studenti la creazione del nuovo logo. C'è stato un concorso quindi abbiamo messo in campo tutte le migliori energie dei nostri ragazzi e c'è bisogno sempre di un po' di competizione. I ragazzi si sono impegnati anche perché sapevano che non stavano facendo un lavoro teorico ma stavano facendo un lavoro del quale poi vedranno il risultato evidente e quindi questo è un bello stimolo. Il nuovo logo è stato realizzato da Giada Giovannetti. Il logo nasce innanzitutto rielaborando quello originale con l'inserimento del numero 70 che riprende la linea gialla che è sotto il logo per incorniciare e metterlo in evidenza e quindi consiste principalmente nella rielaborazione per mettere in evidenza ma anche per mettere in evidenza il settantesimo anniversario. Infine il preside e il segretario di Confartigianato hanno donato alla scuola alcune attrezzature informatiche e un premio speciale andato all'autrice del logo.